C'è un posto che tutti dobbiamo fare in modo di cercare di proteggere, ognuno di noi dovrebbe ricordarsi che esistono queste piccole isole di libertà è una parola grossa, che tutti spendiamo a cazzo, però almeno posti nel quale uno riesce a provare a dire quello che pensa e trova qualcun altro che prova a dire quello che pensa e prova a cercare di sganciare la propria mente da una serie di condizionamenti che sono complicati e che tutti noi conosciamo molto bene, perché anche nella pratica politica quotidiana ci sono una serie di condizionamenti di pensiero che sono dati dal liderino che ti sta di fianco, dalla parola d'ordine che devi seguire, tutte queste cose, in realtà dovremmo tutti provare a cercare di avere una sorta di indipendenza di pensiero e di ricordarsi che dovremmo cercare di ricordarci di essere degli individui, degli esseri pensanti. Allora poi il posto è questo, mi fa piacere che ci siano un migliaio di persone che si fanno vive, è un peccato che, compreso me, ogni tanto dovremmo venirci di più, il fatto sì è che siamo in un momento storico nel quale tutti dobbiamo ricominciare a ricordarci che dobbiamo difendere le nostre anime, prima di tutto e sulla base di quello dobbiamo ricordarci che dobbiamo smettere di pensare che il meccanismo di delega risolverà qualcosa, cioè noi non possiamo pensare che votiamo qualcuno, scegliamo qualcuno, amiamo qualcuno e lui risolverà i problemi per noi, non è vero, tocca a ognuno di noi, come tocca a votare il cestino, la spazzatura, fare la raccolta differenziata e tutto quanto, dobbiamo fare anche la raccolta differenziata del modo di pensare e di quello che ci sta intorno, dobbiamo ricordarci che questo mondo ci compete perché è nostro e tocca a noi, per cui tutto ciò è fantastico e meno male che siamo vivi tutti. Questa sera ci sono stati diversi scrittori, musicisti, fumettisti che hanno portato qualcosa, qual è stato il tuo contributo artistico la serata? Io semplicemente ho letto alcune pagine di un romanzo che ho provato a scrivere due anni fa, che è uscito, che si chiama Foto di gruppo con chitarrista, che è stato pubblicato un paio di anni fa, dove io ho provato a raccontare il decennio 69-79 in questa città che per me è stata la mia grande fortuna. Io sono arrivato qui da studenti di liceo di provincia che avevo un'idea dell'università e di tutte queste cose da fumetto, da cartone animato, anzi no, da film americani. Da college. Esatto, da college. E poi piano piano. Io fra l'altro, essendo diciamo in là negli anni, sono arrivato a Milano prima, io sono arrivato a Milano nel 64, quindi sono arrivato al 68 con 4 anni di rincorsa e l'ho visto crescere giorno per giorno senza capirne un cazzo fino a quando non è successo tutto. e sono stato messo di fronte a quello che stava succedendo e ai contenuti di quello che stava succedendo da gente molto migliore di me, cioè amici che a un certo punto mi hanno detto oh brutta testa di cazzo, ti vuoi svegliare o no? Ed è una cosa che devo a questa città e alla gente che girava in università in quel periodo. E ho avuto la fortuna di vivere a Milano questo decennio meraviglioso che è stato dolorosissimo ma che è stato fondamentale per la formazione di quel minimo di coscienza sociale e storica che ho. E ho provato a raccontare quello cercando di evitare di fare un racconto politico, dei gruppetti politici, cercando di evitare di parlare di terrorismo e basta, che è l'unica cosa di cui la gente parla parlando degli anni settanta. In realtà non sono stati anni cupi e bui, sono stati anni che hanno avuto delle fette di cupezza terribili, ma sono stati anni meravigliosi, ci si divertiva. Una roba come così, succedeva tutte le sere, che è stata una città meravigliosa a Milano per tutti gli anni settanta ed era piena di gioia di vivere e le case erano piene di gioia di vivere, vivevamo insieme. Io avevo uscito in comune tutti gli anni settanta e ho imparato a condividere tutto quello che mi succedeva e a interessarmi degli altri che mi stavano intorno costantemente. Ed è stata per me una scuola di vita incredibile. Producci, consuma, crepa, produci, consuma, crepa, produci, consuma, crepa.